Pensieri di docente Piccoli, affidati alle mie mani come la creta al vasaio, esseri da plasmare o da indirizzare, esseri da educare, da scoprire, da promuovere, da guidare in un percorso di crescita che comincia in interiore. Il peso del mio compito a volte mi toglie il respiro, mi sento responsabile. Li partorisco ogni volta ogni giorno, e loro partoriscono me, rinnovandomi continuamente, in un rapporto empatico che Socrate definì maieutico, che io definisco divino ed umano. Col tempo raccoglierò nei loro sguardi adulti il sorriso di chi ha imparato ad amare la vita e sta compiendo il suo viaggio con le vele spiegate come il marinaio di Pindaro. Mi basterà per sentirmi felice. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.